Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Che mi fate fare, sì! Fatevi mungere! Fatevi mungere brutta merda! Sì! Qua su sì! Sì! Fuck! Fate ferma immagine voi, per favore! Fate voi ferma immagine, ok? Siete pronti? Siete pronti? Un braccio così, un braccio così... Pronti? I muscoli sono perfetti! Ma che invece sono contento? Cioè io appassisco... Ma secondo me non è possibile... Cioè, l'uomo è fatto per lavorare. Di caso dobbiamo avere una motivazione per alzare la mattina. No, ma non dico... Un cazzo è un'altra cosa, si sta parlando delle persone normali. Non sono d'accordo, per me l'uomo non è fatto per lavorare. No, ma dico per dar... Facciamo il collo. Basta, non ho niente di Lupo Lucio! Non sono Lupo Lucio! Sono Zozo! Sono Jojo! Non sono i Dando Lakatsuki! Foto dei proprieri sono queste. Tutti incazzati! Tutti incazzati come dei mostri! Ma chissà perché! Dark, pure tu ti metti così a fare foto! Sempre a placcia concerti! Sempre! Tutti chad! Tutti serissimi incazzati! Ho paura! Vado? Vado? Ho un sacco paura! Vai! Oh! Oh fuck! Oh shit bro! Fuck! Fucking shit bro! Fuck! Ok? 5 volte! 5! 5! L'ho fatto! L'ho fatto! L'ho fatto! Fuck! Fuck bro! Oh mio dio! Oddio! 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 di rimetterci vediamo di spaccare i gui al ctr che dite e e niente per il resto per il resto mamma che io devo fare anche una cosina io e Mr. Pio lo abbiamo vado a farmi i suffumigi oggi non l'ho sniffato dov'è ci ne ando mai o stasera vediamo e mi lascio con anche a voi Mr. Pio ci provo a misurare ma vedi che scappa quel pezzo di merda me lo faccio no non posso non stoppare i mod ho tolto l'applicazione eccoci i pezzi di merda ho riconosciuto che la scaterrata era potente e vi ho mutato cioè mi sono mutata no no l'ho mutata era tanto potente questa ho appena partorito un cazzo sì sì un panda di di mocio no era che non volevate sentire fidatevi 38 e 2 38 e 3 no non è vero no 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 era 30 no no dopo ho avuto 38 era 37 9 37 8 esatto in live poi ho avuto 38 ma non era quel oh mio dio sto crepando è solo un credo di non stare bene non è tipo un non so se mi spiego quindi anche con 38 in questi due giorni raga non sto particolarmente male sono solo stanca questa è oddio 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 intendio raga 안� frag f옆 espress asper aspers 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 come fai no non guardo della merda non guardo della merda non guardo della merda non guardo della merda io ne ho ne ho ne ho non tre nomi che ti fanno dai dimmi dimmi dai Mi ricordo troppo bene Che c'era una scena In cui io dovevo lavare i panni Mi ricordo troppo bene sta roba Perché c'era mio marito che raga Lo so raga non ci crederete mai Ma mio marito di Natalia Di Natalia in casa a Cuppiello nella recita Era Lorenzo quello che si è sposato Anita Gli ho fottuto il marito raga Fuck yeah I know I know I know I know raga Lo so lo so Rovina come Questo è il ballo della tuta Crata Crata 2 Crata 3 Fanno così no i rapper Yeah Ma che cazzolina Non dai cinesi questa volta Bravo preparati Preparati bimbo Preparati Sei pronto bimbo Sei pronto Bravo bimbo Bravo bimbo Bravo bimbo E sto mese si mangia È andato? Perfetto? Minchia raga Ma dai Che 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 fucut Che fucut Che fucut Che fucut Oh 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 Ma scopami Scopami nel culo Si Forte bro Si Più di Fuck Come on Raga, più giù giù di così sti muore Sono corsa al 100% Porca puttana, rompete il cazzo su un paio di